Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento dedicato al calciomercato. Oggi grandi protagonisti, i portieri, perché spesso mi avete detto si parla poco dei portieri, oggi ne parliamo perché ci sono notizie importanti, molto importanti, molto molto importanti, portieri ma non solo perché è anche un grande attaccante protagonista, anzi il più grande attaccante dell'ultima stagione. Ovviamente l'invito è sempre lo stesso, lanciate i vostri... Un po' di mal di gola, quest'aria condizionata, uno va in giro negli hotel, notizia, adesso torna a casa, prende freddo, sbalzi di temperatura, speriamo che sia solamente passeggero, aperta e chiusa parentesi di cui non frega niente a nessuno, se ci fosse qualche amico dottore che segue il video, se mi vuole consigliare nei commenti anche uno sciroppo, che io non azzecco mai quello giusto, di solito prendo quelli che fanno bene ma fanno un po' schifo, se mi consigliate uno che è anche buono sarebbe meglio. Vabbè, parentesi chiusa, arriviamo al dunque perché dicevo notizie molto importanti, prima vi ricordo ovviamente lasciate i vostri commenti, tutte le vostre domande sotto il video, in alto a destra la campanella da attivare per le notifiche in tempo reale, potete anche iscrivervi ovviamente se vi fa piacere per insomma a partecipare, essere parte attiva di questa bella community che si sta ingrandendo giorno dopo giorno, e di questo non posso che dirvi grazie. Dicevo, il grande bomber, il mattatore dell'ultima stagione, il miglior attaccante della Serie A 2022-2023 è stato senza dubbio Victor Rosimane. Ci sono novità importanti, oggi pomeriggio è sbarcato a Di Maro, però non è arrivato da solo, è arrivato insieme al suo agente Roberto Calenda, e se si muove insieme al suo agente c'è qualcosa che bolle sotto traccia. Sullo sfondo ci sono sirene importanti, ma il Napoli vuole blindarlo. 7 milioni e mezzo a stagione, 6 e mezzo più uno di bonus abbastanza semplice da raggiungere per blindarlo. Per i prossimi 4 anni, con l'inserimento di una clausola registra, che deve soddisfare tutte le parti, valida dall'estate 2024 sui 100 milioni, quindi un po' meno rispetto ai 150 che da oggi dei Laurentiis, però sempre un bel prendere 100 milioni cash tutti sull'unghia se qualcuno paga la clausola. L'altro proposito di clausola, il Bayern Monaco oggi ha pagato quella di Kim, in realtà l'ha pagata 4 giorni fa, oggi è stato ufficializzato perché è arrivato a Monaco di Baviera, nelle prossime ore sarà presentato, credo tra giovedì e venerdì, quindi Kim lascia il Napoli, Napoli che a caccia del sostituto, nel casting i nomi sono i soliti, l'idea asciutalo della Dinamo Zagave, a piace le normande della Real Sociedad, Kilman è la pista più calda, ma occhio sempre a Danso del Lens, che però non convince tutti, tutti, tutti in casa azzurra. Dicevo, Victor Zimè, bisogna blindarlo per evitare l'assalto di club stranieri. Non tanto il Manchester United, che come vi abbiamo raccontato due settimane fa, ve lo ribadisco, avanti tutta per Oilund, pronti 50 milioni più buoni, sull'Atalanta ne vuole 65, lavora in corso, ma lui si è già promesso con United, c'è un accordo per un quinquennale, quindi stagione 2028 la scadenza con l'attaccante danese. Non il Chelsea, che in questo momento è in overbooking, c'è Obama e Young in uscita, biennale con opzione per il terzo anno, all'accordo con l'Olympic Marsiglia, che adesso deve trovare la quadra con i Blues, Lukaku, una telenovela di cui abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni, e ne parleremo altrettanto nei prossimi, quindi potrebbe fare un pensierino Osimè, però hanno preso un cunco, hanno preso Nicolas Jackson, insomma, lì c'è un po' di overbooking. Il Tottenham non è proprio la società, anche se vendesse Kane, che sollevete i cosi meni, il Bayern ha detto che a certe cifre non arriva, lo sparacchio è il PSG, è il PSG se dovesse vendere Mbappé, però al momento la situazione anche lì non decolla, il pericolo è il Paris, però il Paris sta trattando anche Colomuani, sta ragionando anche su Dujan Vlaovic, la Juve fa il tifo, eventualmente per questa cessione per prendere Lukaku, Allegri, se vogliamo, più che la Juve in generale, perché ha una sua, soprattutto, idea comunque avallata dalla dirigenza, ma anche Napoli fa il tifo per Juve e PSG sul fronte Vlaovic, perché a quel punto per Ozyman sparirebbe vero grande spauracchio, e quindi, insomma, Napoli che fiducioso, incontro in questi giorni con Calenda, Napoli vuole blindare il suo bomber, si respira un cauto ottimismo, cauto perché poi di fronte a un'offerta clamorosa del PSG il banco può saltare in 24 ore, però Napoli sta lavorando duramente, allacremente per il nuovo di Ozyman, da ormai 40 giorni. Lavora da meno giorni invece l'Inter, per il sostituto di Onana, anche questa è una trattativa che vi abbiamo raccontato in lungo e in largo, che finalmente si è completata, nelle prossime ore visite mediche annuncio ufficiale, tutto fatto, 51 milioni più 4 di bonus, totale il pacchetto da 55, lui è il nuovo portiere dello United, contratto quinquennale da 7 milioni a stagione, l'Inter chi fa come sostituto? L'Inter fa Sommer, l'Inter vuole chiudere Sommer, l'Inter ha l'accordo biennale con Sommer, l'Inter è avanti tutta su Sommer, operazione da 6 milioni, pagabili in due tranche, con dei bonus, stanno rimando le ultime cose intermediari, ma la trattativa procede spedita, e deve procedere spedita, perché inzaghi settimana prossima, nella tournée all'estero, vuole avere un portiere, almeno uno su due, perché ok, di Gennaro, ok, gli esuberi che sono rimasti al momento inorganico, Filip Stankovic, Brazao, Eradu, quindi portiere in realtà ce ne sono numericamente, ma non ci sono i titolari, quindi arriva Sommer, vuole Sommer, Sommer deve fare il titolare, e poi vediamo cosa succede con Trubin, perché? Perché come vi dicevo giovedì scorso, l'Inter ha offerto 10 milioni, più 2 di bonus, più 10% sulla rivendita, lo Schattel ne vuole 20, più 20% sulla rivendita, può trattare a 17, 18 e 20% sulla rivendita, c'è una distanza importante, vale il 30% tra domande e offerta, serviranno nuovi incontri, l'Inter lo vuole, ma, insomma, c'è da lavorare, c'è da trovare una quadra, che non è semplice, da risolvere in pochissime ore, nonostante Trubin abbia già detto sì all'Inter, per un quinquennale da 2 milioni a stagione, ma serve un passo avanti, è vero che c'era stata qualche sirena dall'Arabia, ma il ragazzo non l'ha presa in considerazione, a 22 anni, andare in Arabia sinceramente, c'è tempo, si era parlato di qualche club inglese, che aveva sondato il terreno, ma non in maniera così concreta, l'Inter è ottimista, però Sommer è in procinto di arrivare, Sommer è stato bloccato, Sommer ha l'accordo, Sommer ha la sensazione che nel giro di tra 4 giorni si chiuderà, per Trubin invece servirà, un po' più di tempo, da un portiere all'altro, perché abbiamo parlato di Sommer, parliamo di un altro portiere avanti in là con l'età, 10 anni in più di Sommer, una leggenda straordinaria, secondo me il più grande portiere degli ultimi 30 anni, di quelli che ho visto io giocare sicuramente il più grande, poi qualcuno dice Yashin, ognuno ha il suo parere, se non è il più grande, tra i tre più grandi della storia del calcio, ovviamente il riferimento non è casuale, parlo di Gianluigi, detto Gigi Buffon, Buffon che ha avuto un'offerta fantasmagorica da un top club della Saudi League, dell'Arabia Saudita, due settimane fa, ve l'avevo raccontato nei giorni che ho arrivato in di preparatura del calcio mercato, alla sua età, quindi a 45 anni suonati, quasi 46 che compierà il 28 di gennaio, 15 milioni netti a stagione per due anni, sono 30 milioni, insomma, per uno che prende, credo una milionata, Parma, insomma, è vero che i soldi ha guadagnati, però 30 milioni, Brabufon ha detto no, l'aveva già detto nei giorni scorsi, l'ha ribadito ieri sera, e quindi oggi la società saudita l'ha ringraziato, si è ritirato dalla trattativa, lui vuole chiudere al top, il suo sonno era chiudere portando il Parma in Serie A, ancora un anno di contratto, ma quest'anno è iniziato per la prima volta, sentire il cigolio di un fisico, che inizia a screcchiolare, 45 anni dopo aver giocato quasi 30 anni, perché è debutato da 16 a 17 anni, oggettivamente, potrebbe dire basta, si è preso 48 ore di riflessione, giovedì darà il suo risponso al Parma, che attende di sapere cosa vuole fare, e a quel punto poi capiremo, se farà il dirigente al Parma, se ci sarà un clamoroso ritorno magari nei quadri della Juventus, il filo non si è mai interrotto, se entrerà nello staff di Mancini, magari con un ruolo da dirigente, team manager della Nazionale, un po' quello che faceva il compianto Gianluca Vialdi, insomma sono ore decisive, le prossime 48 per il futuro di Gianluigi Buffon, che dovrà decidere cosa fare da grande, un pezzo di storia del calcio potrebbe chiudere qui la sua avventura, un'altra bandiera del nostro calcio potrebbe dire addio al pallone, in questo caso appendere i guantoni al chiodo. Grazie per essere stati in mia compagnia, ci vediamo domani, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso stanotte, quindi siamo sempre vigili, adesso un po' di collegamenti in televisione, quindi insomma ci vediamo lì, qui su YouTube penso domani, ma mai dire mai perché il mercato come sapete è sempre in fermento, voglio i vostri commenti, fa bene Buffon a smettere, avreste fatto magari un altro anno provando a riportare il Parma in Serie A, e poi Sommer vi piace? È l'uomo giusto per la porta dell'Inter, e Osimena a questo punto il Napoli lo deve blindare, immagino i stifosi del Napoli ovviamente sono contenti, o avete comunque ancora un po' di paura del PSG che possa magari sbucare, Eilund Manchester United è il percorso giusto per il ragazzo, ditemi la vostra, aspetto i vostri commenti, ovviamente le vostre domande qui sotto il video, condividetelo, spammatelo ovunque, amici, cugini, zii, parenti, trisaboli, nonni, bisnonni, fidanzate, ho fatto la battuta l'altro giorno, amanti qualcuno, un po' pizzicato nei commenti dicendo, insomma, si tengono nascoste, però magari messaggino su Whatsapp dicendo, hai visto sto video, condivido, o può fare lo stesso, una battuta a parte, vi aspetto, ovviamente sempre più numerosi, iscrivetevi al canale, lo dico sempre, perdete due secondi, però insomma, fate per noi una cosa piccola, ma comunque gradita, e poi insomma, più siamo meglio è, come dico sempre, più siamo in compagnia, e più ci divertiamo, a domani, forse, perché c'è qualcosa che bolle in pentola sumorata, quindi non vorrei che magari, tra un paio d'ore, ci rivediamo, ciao ciao!